amici di milan.soccher buongiorno ben alzati e beh oggi come sempre è un giorno speciale come sempre quando gioca il milan quindi prepariamoci fra qualche ora i ragazzi scenderanno in campo ci sono delle novità ora le vedremo prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi qui sotto al canale gratuito quindi fatelo 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 c'è scritto iscriviti chi vuole può anche abbonarsi al canale con dei contenuti in esclusiva e poi sotto link in descrizione il libro romanzo milan per veri milanisti e anche il nuovo canale il secondo canale di milan soccer che si chiama romanzo mila con delle anticipazioni relative al libro bene possiamo iniziare siamo pronti siamo pronti ieri diciamo prima di addormentarmi mi sono letto non solo l'intervista a diciamo a gerry cardinale di cui ora parleremo ma mi sono letto quella notizia che riguarda crunic crunic cappa o col milan ma convocato dalla bosnia ci hanno detto che può recuperare la bosnia erzigovnia ha presentato il nuovo commissario tecnico savo milosevic ex parma chi è che se lo ricorda inizi anni 2000 e prende il posto di codro esonerato dopo due partite eccetera 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 quello che più ci interessa però è che la prima cosa che ha fatto questo allenatore è stata quella di convocare il nostro il nostro crunic ora io personalmente mi chiedo esattamente qual è la relazione perché di questa cosa tra l'altro non specificatamente di crunic ma dei convocati in nazionale e dell'attenzione che le nazionali debbono riservare ai giocatori dei club dei club perché i giocatori sono un patrimonio e non è la prima volta che il milan interviene perché già anche in questo caso è poi alla fine intervenuto e di questo anche di questo ha parlato gerry cardinale lasciamo perdere che poi successivamente faremo un pezzo dedicato alla coppa d'africa perderemo diversi giocatori per molto tempo quindi si tratta anche di capire che cosa significa per un club investire milioni di euro e poi ritrovarsi quei giocatori non ritrovarsi per mesi e soprattutto nei mesi più importanti quei giocatori ma dedichiamo questo a questo tema un servizio molto specifico specifico c'è una notizia che mi ha fatto molto piacere perché cardinale dicevo ieri ha parlato ha parlato al new york post e ha detto che vuole fare di più nel settore dell'informazione stiamo applicando al calcio europeo l'analisi dei dati che ha le sue radici nel baseball questo l'abbiamo capito money ball l'acquisizione di dati e poi le decisioni figlie di questi dati ma soprattutto quello che più ci interessa e che finalmente inizia a parlare della questione relativa al settore dell'informazione c'è un passaggio che mi ha interessato la vostra filosofia dice il giornalista qual è gli altri settori in cui vorreste operare e di più e lui risponde uno dei mandati della nostra impresa redbird e di fare più nel settore dell'informazione ecco e qui c'è un passaggio che riguarda un po tutti quando si guarda le notizie ci sono davvero due estremi le notizie digitali quindi tutto il mondo che vede coinvolti anche noi e i grandi operatori e sappiamo a chi si riferisce ed entrambi dice sono in difficoltà in termini di traiettoria di accelerazione dei profitti ora caro gerry cardinale non tutti i mezzi di informazione sono necessariamente orientate orientati al profitto nel senso che l'informazione la comunicazione digitale è cambiata e nel cambiare ha coinvolto anche coloro che fanno comunicazione digitale prescindendo dai profitti ma che ormai coinvolge tantissimi tifosi e questo è un passaggio che manca comunque rimanendo alla traiettoria di accelerazione dei profitti e del flusso di cassa i media digitali devono essere considerati e in maniera da essere consolidati quindi vuole parla di un consolidamento mentre i grandi devono innovare in sintesi c'è la esigenza per i mezzi di informazione digitale di diventare sempre più importanti mentre quelli importanti hanno la necessità di innovare per non scomparire faccio una super sintesi quello che intende dire cardinale e che il milan dovrà lavorare meglio sul settore dell'informazione e credo che questo noi lo stiamo quando a quanto tempo è che lo stiamo dicendo e i mezzi di informazione nazionale innovare quelli digitale consolidarsi ecco perché ritengo a mio modo di vedere che il milan non debba avere solo un mezzo di comunicazione istituzionale formale rappresentato dal proprio sito o dal proprio ufficio stampa ma debba avere proprio un progetto di informazione che possa essere molto più vicino al tifoso di quanto non lo sia stato fino a questo momento ci sono state delle scorciatoie per questo motivo noi parliamo sempre della gazzetta dello sport che è giornale di propaganda della seconda squadra di milano tutto sport che giornale di propaganda della juventus il corriere dello sport che cerca di mediare tra roma lazio e napoli per cui in questo momento noi da quel punto di vista siamo carenti un'altra domanda che fa il giornalista e redb possiede una squadra squadre tante squadre sportive società di media e persino aziende di mobilità di area urbana come si intra integrano questi asset ecco c'è una cosa importante non sto a leggere i dettagli che sono molto tecnici la cosa importante lui dice i fondi sono noti per arrivare speculare cioè far migliorare le prestazioni di un'azienda che precedentemente non andava come doveva andare e poi rivenderla immediatamente invece la nuova tendenza dei fondi e questo è importante per il milan è quella di consolidarsi sull'investimento cioè di creare delle progettazioni più a lungo termine per questo nel milan lui crede e soprattutto negli investimenti che possono essere infrastrutturali come lo stadio ma non solo ma anche di progettazione sportiva per questo lui dice io al milan non sarò una meteora voglio restare voglio vincere voglio consolidarmi voglio consolidare il bilancio che quest'anno è chiuso ha chiuso in sei milioni di di utile e quindi in con il segno più per sei milioni ripeto l'altro giorno mi scusa mi sono sbagliato detto 66 milioni insomma sei milioni comunque in un momento storico in cui tutti chiudono in perdita ecco questo un mezzo la comunicazione e l'informazione vista in modo differente e il fatto di avere un progetto a lungo termine devo dire che mi fanno dormire un po più sonni tranquilli abbiamo fatto questo primo video così un po più celebrale per non pensare troppo alla partita di oggi nel video di mezzogiorno faremo un video mezzogiorno e 45 faremo un video dedicato al milan lazio e poi ci rivediamo dopo la partita per la reaction buona giornata ciao ciao